alfa michael ciao non ne sono usciti tre ne sono usciti quattro 4 artefatti dorati oh mio dio quando fai la scommessa in chat per farne uscire tre ma ne escono quattro 40 novesima ok nianzi io uso 50 81 una dragon spain quanta due oh gesù è l'ultima malissimo quanta tre è fatta ragazzi è lei è lei davvero ma che brava manine tremoline proprio un bacio vapore non se l'è meritata sto giro gli ho messo tutto il rossetto amen vai amber vai amber sei forte vai madonna 11 amber amber scappa mamma mia vi prego dateci il sogno di un 20 per cento di hp percentuale c'è è tutto così perfetto è tutto così bellissimamente bello stasera si va a celestia beff sto malissimo ragazzi io mi alzo verso la webcam in questo momento vi sto abbracciando tutti ecco io in questo momento ve l'ho mandato a tutti l'abbraccio eh dal primo all'ultimo abbracciati tutti nation direi di si quindi arara ok allora siamo tornati val c 1 c 2 basta io sto facendo un esaurimento nervoso e adesso con una singola a inizio delle pullate live tiriamo fuori balla eccola sta arrivando oh mio dio davvero e allora che stavo dicendo cosa stavo dicendo bene abbiamo finito di pullare ci vediamo la prossima volta ciao a tutti bellino questo percorso ciao spauro buonasera è piaciuto no ho cliccato prima di aprirlo ho cliccato prima di aprirlo ho capito mi mi la lo dico la 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 è d'acqua ok questo è eliminato questo invece è un problema se magari scende oh zong ma che fa ragazzi si è buggato ma che sta facendo eh eeeh ma perchè tutti hanno sentiamo sembrano tipo sempre quei cosi steccosi sembrano fatti per gli aperitivi buona la plastica eccola ragazzi è bellissima mamma mia sto ventilando l'idea lancia nel caso ci fosse ancora dubbi lancia elettro ball ragazzi lancia elettro se qui non l'aveva visto ancora al trader ragazzi è bellissima guardate questo la ulti ragazzi la ulti tira fuori la spada cioè ma potremmo rivederla tirare fuori la spada all'infinito calpestaci calpestaci tutti va compro raga è lui ti risolvi ma si fine 2021 raga raga fine 2021 compro ce l'abbiamo fatta compro ce l'abbiamo fatta ragazzi no la grafica è bellissima cazzo adò proprio quel gioco pokemon che dici è il gioco pokemon vabbè lo posso dire io e ne arriva un'altra avventura mi sa che è quello che abbiamo visto mi sa che è eccoci ecco l'epico si si un'altra eh si la possiamo già scendere che bello si è molto più rapido comunque è bella la colonna signora vuol dire la colonna sonora mi ha ucciso la colonna signora comunque odomo tomo kutala mozimita mimi tomo mozimita tomo mozimita tomo mani mimi mimi mami ye lata iaka ika lata ika odomo mi frido di mi mimue ye ye mimita ye ye ma qua non lo dite più scusate eh best parola da davalo da davalo tutte le volte valo me lo dici tutte le volte sei tipo va bene vai di qualcosa del genere se me lo trovassi davanti non so cosa gli farei io non ho fatto un non ufano per te ufano è diventata la nostra prole mi voglio andare kundala che bello ragazzi che bella chat da davalo anche a mia famiglia ciao luca buonanotte mi fai spade tutta la casa mi fai spade tutta la casa mi fai spade tutta la casa non ci credo è la l'unica che è sta ruota la bottiglia o stai fai? mi fai rire? non l'ho visto così mai fai spade tutta la corpo mi fai spade proportionine il ginocchio no va fuori va fuori ormai è scoppiata guarda com'è adesso no piano aiuto vai di luca tiragli tiragli qualcosa bravo bravo ora scappa per piacere mutti di casua la e di bennett che non ha fatto vai di luca la ulti bravo 7 ma malissimo gli ha tolto 7 di ulti 7 doppio però c'è anche la b se ci saranno più voti sulla b potrebbe vincere la b quindi è un po' strana la situa vedo anche tanti voti per la d ma sono male quindi s ragazzi è incredibile ed è meme che nel mio canale abbia vinto la s di luca ragazzi è proprio meme qualcuno faccia una foto a questa classifica perché la mia faccia è di luca in s nella solita immagine non li rivedremo più mi sto abbracciando arce credici in questo momento ti sto abbracciando ora che sono congelati fermi ma poron vai a sedere allora questo è stato uno scam di quelli proprio bene e buoni ma perché c'è il signore asce lì no ragazzi clippate un attimo il doppio signore asce ci sono due asce ma che è sto bug cioè abbiamo i asce e asce che poi hanno litigato le due personalità del signore asce che sono in conflitto però di loro in questo momento stanno litigando tipo problemi di coppie esistenziali non vogliono stare più in team insieme mona e ecco qua tutti e due di spalla hanno litigato e c'è va bene ed è il momento 76 a noi ecco la 76 almeno non siamo andati oltre oh ecco la lupita ma via sono rimasti almeno un po' il po' di frae cioè non almeno dai sono rimasti quanto 3 e 3k qualcosa quindi non mi lamento sono due pull da 10 quindi Ez un tubo Ez ma Ez cosa? sentendo male perché non ha più 10.000 frae io sto ventilando la foto da mettere su instagram mi frebano le mani perché non ho più le primogenze se mi volete bene ragazzi se mi volete bene vi prego quando metto il banner delle primogenze la voce? mi frebano le mani perché non ho più ok fin qui tutto a posto mi spara questo ora ok quello di nuovo questo e qua si ma spara io vado dall'altro lato non mi interessa questa curva ragazzi la curva finale ragazzi la curva finale ho tagliato ho tagliato mezzo percorso grazie a quel fungo da quarta a prima no vabbè raghi qualcuno la clippi questa scena finale perché è bellissima la voglio assolutamente mettere da qualche parte ragazzi tanta valle la devo annusare per forza ragazzi oh mio dio ma oh mio dio schizza un pochino aspettate meno male l'ho fermata in tempo ho rischiato di fare un danno non l'ho fatto ok meno male meno male me ne sono accorta giusto in tempo per evitare ok ok ci siamo meno male si è fermato tutto in tempo oddio ho rischiato di fare il bagno meno male non l'ho fatto allora l'odore è buono l'odore è molto buono sa di qualcosa di comunque ragazzi benvenuti tutti i ragazzi entrati nel discord siete entrati in tantissimi io sono onorata allora lordi ecco questo mio babbo va a posto bravo chiesa ha fatto col chiesa se lo volevate sapere io che affogo questa la devo salire così io che affogo nella mia ansia cosa è questa io che affogo nella mia ansia eccoci oh mio dio oh mio dio si 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 oh mio dio non so come non so come ho fatto no ragazzi no aiuto aiuto mi sono rincastrata e non so che facciamo sei incastrata tim ma che brava no ragazzi veramente non so come fare ma poi sta continuando sta continuando ad andare giù all'infinito sto malissimo ok l'ho trovata no non l'ho trovata secondo me l'hanno cambiata l'artwork oggi sono andato fatto come l'ho fatto io vediamo death ht aiuto 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 guardate il damage guardate il damage aiuto aiuto mi sto sentendo male ma è possibile ma è fattibile non è umano non è umana sta cosa quanti quattro stelle si 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 ce l'abbiamo fatta per le cuffie ti giuro ecco ma è partita tutta ma non è partita tutta ragazzi questa artefatta è troppo bella non troverò di decenti non ne troverò più ma che succede? ma che sta succedendo? ah liu è non ha mostro dai cos'è ragazzi what? scusami ad ogni modo stavo dicendo che questa casa è scappata ti ammetti ma non mi ne muovere sto ferma sto ferma parlo dicevo l'esterno è penso delle case più belle che io abbia mai visto sono andata a prendere di nuovo lascia e poi mi ha detto stai lì la prendere in latte non è tornato mai più no no ora torna spero che torni Kree non uscirà mai Kree ma come sarà mai possibile che esco a Kree andiamo ma che stiate dicendo? pazzesco pazzesco patrimonio ma che state dicendo? ragazzi stasera il daddy sta con noi non so dove metterlo però e non si vede tanto e poi copia la scritta utao però qui sta proprio bene oggi non possiamo metterlo da nessuna parte però non so dove metterlo forse lo posso incastrare qua vediamo io e il daddy ha vinto pinuzza con 13 voti quindi andiamo di pinuzza allora ho sbagliato ho cliccato un tasto raddob ok poi io voglio con le minuscole grande pinuzza grande pinuzza forza sayu 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 no no vabbè no non ci sto credendo non ci sto credendo ma io ho il pizio all'uno no 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 non è vero no ragazzi non è vero ragazzi speriamo sia jean così continuiamo a pull non lo so non lo so non so cosa ma vabbè andiamo avanti pt3 4 pt4 oh mio dio a pt4 oh mio dio siete autorizzati poi dopo torno normale ma eccomi allora la prof maui è qui per aiutarvi e quindi avevo portato gli occhiali apposta andavo a parlare della prof e io me li ero messi tra l'altro non sono da vista sono finti questi quindi li ho messi giù sempre le prof la vedete pullami mi stai per pullare vero questa è la prova ora si finirà uff riuscivo là ci ha appena fatto ci ha appena fatto un occhiolino ci ha appena fatto un occhiolino va bene ferma l'occhiolino di yae da qui a per sé le scarpe questo è il momento più importante nella storia di tutti i giochi pokemon le scarpe da corsa quando passavi da essere una persona appiedata triste e lenta a diventare un piccolo speedy gonzalez che corre tra l'erba alta per andare a schiantarsi su tutti i pokemon grazie le scarpe di corsa avete realizzato tutti i nostri sogni dovrei avere in realtà sono qui veramente io a centinaia e niente ok c'è uno sgranchisci oh mio dio ragazzi voi non penso l'avete sentito la mia schiena ha fatto tre scrocchi insieme mi sa che devo parlare dal da questo terapista sto giro per la schiena penso di essermelo appena rotto si è sentito perché fa morire questo ve l'ho detto perché voglio che facciate parte dare attenzione al suono preparatevi sono brava intesi? no la pista avevo già confermato io scusa scusa hai ragione aiz aiz ragazzi kree aiz 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 kree è in meglio ragazzi aiz 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 applauso merito a tutti ben ti applaudiamo per il kree santi tu non so sì di me non so finisce aizze spamma l'emoticon che non è potuto spammare prima bisogna di barbara o zombie sennò no tartaglia no no child no non mi serve child sì ora esce child non ci credo non ci credo non ci credo no ragazzi no dai non ci sto credendo no cercando di entrare la bocca guarda betta guarda betta vai una volta io voglio vedere betta ciao pombe sei il momento migliore no ma guarda betta guardala vai marty guarda ma guarda betta ce l'ha fatta però che brava ma come hai fatto ma come hai fatto sei una strega è boda no che cos'è questo trono può anche diventare un letto praticamente guardate è stato un piacere alla prossima scherzo no 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 ok c'è della concentrazione in questo momento è il momento del tryharding lori non so cosa sia ma come ma scusate scusate un attimo no 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 un attimo ma è chiaro no cioè mi sembra chiaro quello che ho detto cioè ve lo rispiego se volete è no io ho visto che è rimutata ma no ok è è è è è non c'è più nulla ma non è è è sta cosa dai l'ultimo è basta non guarda è cosa è un arco è un arco è tutta salute oh papà mia io intanto preparo i bicchieri mentre betta fa il collasso finale che cos'è a giusto non te il betto sembra la bella tartaruga ma che cosa sta lì basami i bicchieri ooooh ooooh bella non vi preoccupate cioè stossisco perché rido oh va bene dove sta il tuo bicchiere no te non lo puoi tenere in mano lo tengo io ti do da bene betta betta ma io ma io mi tenai fa l'azzurro se continui allora ma come ragazzi eccoci eccoci la mia bambina bellissima ragazzi scusate ma io la amo troppo cioè sembra un misto tra una mermaid melody e una wings però più bella se te unisci le mermaid melody alle wings e butti anche una sprizzotina di unicorni esce balla si balla esce cocomi bellissima ecco ballate ballate zonkli l'ha presa nascosta il segnale e ce la sta passando a tutti sto malissimo questa è la più buona mi viene da vomitare potrei avere un futuro su tiktok a continuare a respirare e ci metti una sfonda volta ma dovrai No, 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 no